il prossimo pezzo nasce proprio su questa considerazione avete visto che non so se avete notato che in questo periodo la sinistra è un argomento che artisticamente diciamo muove le ponte funziona funziona no si può dire anche e questa canzone è nata un po per questo vi anticipo il titolo si chiama comunisti platonici e come 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 ogni giovane uomo che vuole avere un'idea politica ben definita sono andato alla manifestazione perché bisogna andare alla manifestazione io non sapevo per cosa si manifestasse ma ma ci credevo sentivo già che no no sentivo già che comunque mi sentivo la lotta di classe la sentivo mia io poi ho fatto anche rappresentante di classe questo quindi no ho una storia di cioè le parole non sono a caso sta di fatto che io vado alla manifestazione faccio tutto il percorso e arrivo in una piazza in una grande piazza piena di gente e un omino prende un microfono e fa compagni no sì no ma era più piccola la piazza più gente più piccola compagni ecco in alto i pugni e li ho avuto la mia prima crisi di sinistra e tanto è vero che se ne accorta anche quello a fianco a me che compagno in alto il pugno ma guardi se io potessi starei cos'è non credi nei nostri ideali no no io figurati sei schiavo della società no schiavo del fascismo schiavo no tu sei schiavo non è questo il problema ok te lo spiego qual è la vita che ti stressa non è quella che ti basta il tempo spesso va e poi ti resta il mal di testa e il cappio alla gola il fazzoletto nella tasca l'odore della droga dritto nella mia finestra comunisti platonici rivoluzione dal divano e comunisti platonici col pugno chiuso sì ma non ricordo quale mano e resto in mutande chiuso nella stessa stanza ripeto le parole che mi diano la speranza rivoluzione lotta e la classe media avanza voglio una compagna sì ma per crisi di astinenza comunisti platonici rivoluzione dal divano e comunisti platonici col pugno chiuso sì ma non ricordo quale mano la 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 e sono di sinistra perché fumo il dorbon giallo e sono un artista perché in testa c'ho il cappello e scrivo questa canzone per andare al primo maggio ma se il concerto è basso mi presenterò di x factor comunisti platonici rivoluzione dal divano e comunisti platonici col pugno chiuso sì ma non ricordo quale ma non ricordo quale l'allai la 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 non ricordo quale mano ok? grazie Marco Plum grande di capo